Piazza Marsiglio Ficino riapre alle auto. Da oggi in via sperimentale fino al 29 di febbraio si potrà nuovamente attraversare la piazza in macchina arrivando da Corso Mazzini verso Piazza Verani. Non solo circolazione ma anche parcheggi. Sulla destra del passaggio, infatti, lungo tutto il loggiato, sono stati ricavati dei nuovi posti auto. Sarà una direttrice che da Corso Mazzini va in direzione Piazza Verani. Saranno contestualmente creati 22 nuovi parcheggi sia per auto sia per motocicli. Il posteggio per le auto sarà disciplinato con Parcometro seguendo quella che è già attualmente la disciplina dei parcheggi nelle altre aree di sosta già presenti. Una sperimentazione messa in campo per venire incontro ai bisogni dei commercianti alla quale si è arrivati dopo una serie di incontri tra amministrazione e cittadini. È da tempo che abbiamo richiesto la riapertura della piazza visto che quando era stata aperta precedentemente funzionava e abbiamo ottenuto questa nuova apertura in parte fino al 29 di febbraio. Acquisteremo dei nuovi posti macchina e si spera che tutto ciò porti al paese un qualcosa in più nel senso che visto che Filina è abituata a venire a fare gli acquisti in piazza e a tutti piace parcheggiare vicino e con questa nuova viabilità appunto si spera di poter riportare un po' di gente nella nostra piazza.